Bentornati amici dell'internet in questo magnifico, dovrei dire, stupefacente video di Clips e come potete vedere siamo esattamente dove ci siamo lasciati nello scorso video infatti io in realtà li sto registrando uno di fianco all'altro vi invito a lasciare subito un bel mi piace prima che vi dimentichiate e non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere effettivamente come far partire questo programma ok adesso appunto effettivamente abbiamo, io ho lasciato un pochino con la suspense nello scorso video perché vi ho fatto vedere che si erano creati i nostri fatti avevamo la regola pronta per essere lanciata ma non vi ho fatto lanciare la regola cioè non vi ho fatto vedere come si fa per lanciarla molti di voi probabilmente già lo sanno però è molto semplice basta premere il comando step questo effettivamente vedete che in realtà non è un vero comando step ma è il comando run con parametro 1 ma non ci interessa comunque vedete che è stata lanciata la regola vedete che infatti in agenda non c'è più vuol dire non è più una cosa da fare e sono successe un po' di cose andiamo a vedere che cosa è successo per prima cosa è stato stampato sto per calcolare il fattoriale di 4 ok ce lo aspettavamo l'abbiamo detto noi di stamparlo quando viene lanciata questa regola quindi è diciamo qualcosa che ci aspettavamo però vediamo che sono successe anche un sacco di altre cose mentre prima avevamo soltanto i nostri due fatti numero di partenza e frase di fine che avevamo dichiarato noi a mano adesso effettivamente sono spuntati anche i due fatti che avevamo asserito quindi abbiamo messo come risultato diciamo nel fatto risultato allo slot r il valore di n andiamo a vedere risultato allo slot r il valore 4 che era lo stesso con cui avevamo matchato in quella regola se ricordate col fatto f1 vedete che il fatto f1 aveva n uguale a 4 aveva matchato lui aveva detto ok il numero di partenza l'ho matchato il n vale 4 allora andiamo a mettere il risultato effettivamente in r4 perfect dopo di che vedete che è stato anche diciamo lanciato il comando iniziato scusate non il comando è stato asserito il fatto iniziato e questo impedisce di nuovo alla regola di essere lanciato quindi adesso andiamo a rivedere il comando matches vediamo che effettivamente adesso è un pochino diverso abbiamo il matches per il pattern 1 f1 però abbiamo un match per il pattern 2 f4 f4 effettivamente andiamo a vedere i fatti che per realtà sono scritti qua quindi in realtà non serve mi rimangio tutto il fatto 4 effettivamente è il fatto iniziale ok match parziali quindi non ce ne sono perché il f4 era negato ok era not iniziale molto bene quindi avendo essendo riuscito a matcharlo con almeno 1 il not fallisce e quindi ci dice che non c'è un match parziale quindi activations nessuna non viene attivata su una regola cioè questa regola non viene attivata diciamo in nessun modo va bene quindi come continuiamo il nostro programma beh vi faccio una magia di editing e come potete vedere andiamo a definire semplicemente una nuova regola per il momento quindi la regola continua fattoriale e qua iniziamo a vedere una serie di cose che sono quelle che rendono clips particolarmente complesso e ostico da capire soprattutto se si è a lì allora andiamo a vedere di nuovo ricordiamo le regole hanno una left hand side e una right hand side cosa iniziamo a leggerla dalla left hand side quindi vediamo saltiamo questa parte che non capiamo vediamo che però anzi scusate saltiamo proprio la prima riga perché è troppo complessa l'andiamo a capire dopo vediamo che abbiamo risultato con r all'interno il valore con un certo valore all'interno di r il valore contenuto ci riferiremo a quel valore con l'handle punto interrogativo r d'accordo? quindi abbiamo se riusciamo a matchare un fatto risultato che all'interno dello slot r ha un certo valore che io ho chiamato r per far prima per pirci e che cosa fa questo operatore minore minore meno va a prendere un numero e lo va a mettere dentro la variabile fatto risultato che cos'è quel numero? il numero è l'indice del fatto per esempio nel nostro caso il risultato avrà come index 3 ok? quindi semplicemente lui dice ok se riesco a matchare un risultato r insomma riesco a matchare con un certo fatto prendi quell'handle quel numero quell'index del fatto e vallo a ficcare dentro la variabile fatto risultato ok? attenzione la riga di sopra è uguale vedete che fa la stessa cosa dice se c'è un numero di partenza n vai a prendere quel fatto se riesci a matcharlo con quello che c'è scritto ad essere vallo a mettere nella variabile fatto numero però cosa succede qua? succede che c'è un piccolo una piccola differenza abbiamo che? numero di partenza ok? slot n stiamo dicendo nello slot n ci deve essere un punto interrogativo n però vogliamo una determinata condizione cioè vogliamo che questa regola per essere effettivamente per matchare quel fatto n non è un valore qualsiasi per esempio il numero di partenza noi non vogliamo che sia meno 5 ok? perché il fattoriale di meno 5 non lo vogliamo calcolare ok? quindi diciamo che grazie a questo operatore con la e commerciale e i due punti andiamo a fare un cosiddetto constraint cioè stiamo dicendo si matchami un fatto che all'interno di n abbia un valore ma non va bene qualsiasi valore bisogna avere n quindi questo valore con cui stiamo matchando maggiore di 1 perché ho scritto in questo modo strano maggiore n1 perché purtroppo io dico purtroppo perché secondo me è un po' un po' confusionaria come notazione però così è e ce lo teniamo si utilizza la notazione prefissa la notazione prefissa funziona proprio così bisogna mettere prima l'operatore binario poi il primo operando e poi il secondo operando quindi per esempio diciamo che questa cosa qua viene tradotta in punto interrogativo n maggiore di 1 ok? andiamo a vedere che cosa fare quindi in questo caso abbiamo detto se troviamo un numero di partenza pari a n con n maggiore di 1 e abbiamo un risultato r allora andiamo a fare una prima cosa che cos'è? una modify la modify non è altro che un modo per cancellare il fatto precedente e rimpiazzarlo con un nuovo fatto ok? quindi quello che andiamo a fare è a dire modify ha bisogno di come primo parametro l'endol quindi il numero l'index del nostro fatto e noi vogliamo modificare il fatto fatto numero che è quello che ha matchato con tutta sta rumenta qua che dicevamo prima il fatto numero con all'interno dello slot n non vogliamo più mettere n ma vogliamo mettere n-1 ok? e praticamente la stessa cosa vogliamo farla n-1 di nuovo vedete scritto in notazione prefissa ok? n-n1 vuol dire n-1 ok? e poi vogliamo fare anche un'altra modify su però che cosa? sul risultato cioè stiamo dicendo ok il nostro contatore diminuisce il nostro n diminuisce il nostro fatto risultato cosa fa? beh all'interno dello slot r andiamo a mettere una moltiplicazione di che cosa? di r quindi il valore che c'era precedentemente vedete che è questo valore qui ok? e l'ora che c'era precedentemente moltiplicato di nuovo per n-1 quindi moltiplicazione operando numero 1 e tra parentesi l'operando numero 2 ok? ci siamo fino qua e dopo di che abbiamo un paio di stampe quindi diciamo sto continuando ora il fattoriale è il valore che abbiamo appena calcolato vedete questa moltiplicazione tra r ed n-1 andiamo a capo e dici ho moltiplicato per n-1 quindi queste sono un pochino di stampa andiamo a ricaricare il file perché avendolo modificato ovviamente bisogna andare a ricaricarlo load allora ecco questo c'è un primo problemino dice che non possiamo semplicemente fare la load giustamente qua impariamo un nuovo comando bisogna fare sempre prima la clear perché bisogna ripulire da tutti i file che avevamo appena letto possiamo adesso fare la load vedete che va tutto a buon fine abbiamo tutte le nostre varie definizioni anche la nuova regola aggiunta che è il secondo sderisco e ora possiamo fare finalmente il nostro reset il nostro reset ci fa ripartire e ora andiamo a vedere che abbiamo la nostra regola inizia fattoriale come la scorsa volta tutto regolare andiamo a fare step vanno a definirsi appunto i nostri fatti e siamo nella stessa situazione da cui è iniziato questo video però ora vedete che qua c'è una nuova regola ed è la regola continua fattoriale che abbiamo di cui abbiamo appena parlato andiamo a fare quindi uno step dice sto continuando ora il fattoriale è 12 andiamo a vedere dov'è effettivamente il risultato è r12 numero di partenze è diventato 3 e basta e abbiamo moltiplicato per 3 ok andiamo a farlo ancora una volta vediamo che effettivamente adesso la nostra base sui fatti f1 ed f3 vedete di nuovo numero di partenze risultato sono i nostri come dire i nostri fatti cosa è successo stare i nostri fatti f1 e f3 quindi ha di nuovo matchato la regola possiamo andare avanti facciamo uno step ho moltiplicato per 2 risultato è ora 24 vedete 12 per 2 24 facciamo ancora uno step dice ho moltiplicato per 1 lui purtroppo non lo sa che moltiplicare per 1 non serve a niente non gliel'abbiamo detto e quindi lui va avanti vedete che ora però lui sembra aver finito giusto cioè non ci sono più regole da poter far andare quindi io posso anche spammare il tasto e non succede nulla vediamo che all'interno di risultato effettivamente c'è il risultato che noi speravamo ovvero il fattoriale di 4 però non ci è stato mostrato accordo? quindi andiamo semplicissimo ad aggiungere un'ultima regola che ci permette di andare a diciamo semplicemente mostrare il nostro risultato e andiamo a vedere effettivamente come funziona se vi ricordate avevamo anche una frase di fine quindi noi volevamo mostrare stampare quella frase di fine quando abbiamo molto semplicemente quindi andiamo a definire una nuova regola molto molto più semplice di quella precedente termina fattoriale diciamo che quando il numero di partenza è diventato 1 abbiamo finito e abbiamo definito una frase di fine quindi vuol dire se abbiamo una frase di fine da qualche parte da mostrare allora la stampiamo stampiamo il terminale F e andiamo a casa e dopodiché mettiamo Holt Holt è un comando che in questo caso non serve a nulla però di per sé se ci fossero altre regole in esecuzione quello interrompe tutto cioè dice ok da qui non ci andiamo avanti più con altre regole è finito il programma e quindi poi semplicemente basterà dare un'altra run e il comando Holt ha fatto la sua diciamo è una pausa ok quindi andiamo di nuovo a fare tutti i vari passaggini clear andiamo a fare di nuovo il load tutto a posto andiamo a fare il nostro reset e questa volta invece che fare tutti i singoli step andiamo a fare run che non è altro che come spammare step finché non mi facciamo run e vedete che adesso effettivamente ci viene mostrato tutto ci viene detto sto per calcolare il fattoriale di 4 è bom e poi ci dice sto continuando il fattoriale 12 poi per 3 poi 24 eccetera e quando ha finito effettivamente ci viene stampata la nostra frase che dice ho finito ora vado ciao e così come ha finito il nostro programma ho finito anch'io di annoiarvi e quindi noi ci vediamo nel prossimo video spero che vi sia stato utile come minimo e noi ci vediamo nel prossimo video lasciate un bel pollicione in su mi raccomando condividete con i vostri compagni che fanno fatica a capire fatti ordinati fatti non ordinati regole su clip e così fate crescere il canale ciao a tutti